buongiorno a tutti oggi mi trovo a mendrisio e quello che vi sto per mostrare è un bellissimo appartamento di 3,5 locali situato al pian terreno e dispone anche di un bellissimo giardino questa è l'entrata subito dritto davanti all'entrata abbiamo il primo bagno bagno completo di vc box doccia bello ampio lavandino specchiera e dietro la porta abbiamo la lavatrice e l'asciugatrice quindi la lavanderia è direttamente in casa qui abbiamo un comodo armadio a muro come potete vedere entriamo ora nel soggiorno soggiorno bello ampio con cucina a vista cucina completa di frigorifero congelatore forno lavandino lavastoviglie vetro ceramica e cappa cucina moderna ad angolo dall'altra parte invece si sviluppa il soggiorno anche questo ampio e luminoso e si esce sul giardino quindi una parte di terrazza coperta e qui abbiamo il giardino che circonda l'appartamento sono a mendrisio sono nelle vicinanze dell'ospedale e sono vicino a tutte le comodità rientriamo ed accediamo ora alla zona notte dritto davanti a me abbiamo il secondo bagno bagno completo di lavandino mobiletto specchiera finestra vasca da bagno vc e bidet accanto abbiamo la camera matrimoniale ampia con vista sul giardino e dall'altro lato abbiamo la camera singola anche questa di generosa metratura incluso c'è anche un posto auto in auto rimessa e c'è una cantina se vi è piaciuto questo appartamento e volete venire a vederlo dal vivo chiamateci subito ti affetto